I regali di Natale sono sempre una cosa complicata e non conservo bei ricordi, ma quest'anno ci sono stato attento e sono sicuro di aver colto tutti i segnali di Laura. Ma per scrupolo valutiamo le due ipotesi. Un giorno mi fece notare un profumo. Ecco cosa potrebbe succedere. No, amore, è bellissimo. Bellissimo! No, vabbè, fa sentire. Troppo buono, amore, grazie. Ti stanno a favola. Amore, non dovevi. Sei contenta? Sì! Ti amo, sei bellissimo. Anch'io ti amo, amore. Non ti lascerò mai. Ma lo stesso giorno mi fece notare anche una sciarpa. Luca, io ti lascio. Ma sei scema? Fa schifo. Ma come fa schifo? È seta pura, è bellissimo. Ma che è seta pura? Ma mi regali il classico cliché del regalo di Natale. La sciarpa già che c'era e mi potevi comprare una crema colpo. Ho capito, ma pensavo lo volessi. Ma amore, io voglio una sciarpa. Ma quando mai? Ma ne ho una, ne ho una. Amore, ma senti, è bellissima. Senti, tocca. Toccala. No, l'hai presa dai cinesi. Amore, non l'ho presa dai cinesi. L'ho presa in quel negozio che tanto ti preggeva. Senti, lascia sta. Io lo sapevo, io lo sapevo. Devo dare retta a mia madre. Che c'entra tua madre adesso? Che mi ha detto che mi dovevo mettere con Carlo. E chi cazzo è questo Carlo? Il figlio del notaio. Il figlio di chi? Del notaio. Laura, chi cazzo è questo Carlo? Che fese, è geloso? Laura, io non sono geloso, ma voglio sapere chi è Carlo. È Carlo il figlio del notaio e lui sicuramente mi avrebbe comprato una sciarpa più figa, no? Questa del merda dei cinesi. È finita, Luca. Ma cosa stai dicendo? È finita. Buon Natale. Per quanto posso aver valutato però entrambe le ipotesi, ma avendo in passato sempre sbagliato, ecco che cosa ho deciso di fare la sera di Natale. Questo è per te. Wow, una sciarpa. Che bella. Ti piace? Che schifo, è proprio brutta. Ti piace? Sì, amore, è bellissima. È seta purissima. Ma anche questo è per te? Chissà che altra fantasia. Apri, apri. Ma è scemo. Gli avevo detto che non mi piaceva. Wow. Ti piace? Grazie. Perché non mi ami più? Eh? Perché non mi ami più? Perché non mi ami più? Finisce sempre così. Qualsiasi cosa faccio non va mai bene. Buon Natale. Laura! Amore, dai, apri. Amore, per favore, apri. Ma perché non vuoi aprire? Perché non mi ami più? Perché non mi ami più? Ma te ho regalato quello che volevi. Esattamente l'ho fatto. Sei tu che mi avevi fatto notare il profumo e la sciarpa. Esatto. Mi abbiamo detto che non mi ami più. Ma non mi ami più. Ma non mi ami più. Ma non mi ami più. Amore, apri su, per favore, dai. Non mi ami più. Non mi ami mai. Mai. Amore, su. Non fare così. Mi strazzo. Dai. Amore, mi apri? Amore. Ehi.